Salve ragazzi bentornati sul canale e bentornati dal vostro Lofo di Udia Siamo tornati qui nuovamente su un nuovo video dedicato a Brawl Stars Bensì ai nuovi aggiornamenti e alle nuove uscite che ci saranno proprio su questo gioco Ragazzi oggi parleremo di nuovo Brawler, nuova modalità, nuove skin, nuovi bilanciamenti e nuovo rework Credo che siano proprio questi tutti gli aggiornamenti che ci saranno in questo nuovo video Però andremo a vederlo e analizzarlo insieme come abbiamo fatto nel video precedente Bensì ve lo lascio sopra nell'info box, magari ve lo andate a riprendere Come sempre andremo a rivedere il video ufficiale della Supercell con i sottotitoli in italiano ragazzi Perché i sottotitoli in italiano sono una manna dal cielo Sapremo tutti i nomi in italiano già in anteprima Dai startiamo Allora a marzo arriveranno un nuovo Brawler di nome Carl Quindi ragazzi già lo stiamo vedendo un po' in anteprima bloccato qua lo schermo in questo momento Vediamo questo Brawler così un po' particolare ma anche si è visto un po' sotto Però dopo lo andremo a vedere un pochino nel dettaglio Andiamo avanti Una nuova skin Come ho detto prima e in precedenza E una nuova modalità ragazzi Questa secondo me è la cosa più bella ancora del nuovo Brawler Della nuova skin Ragazzi questa nuova modalità che si chiamerà Siege Ma in realtà da noi si chiamerà Asserio Incredibile ragazzi Dopo lo andremo a vedere nel particolare perché la mostreranno Magari voi questo video l'avete visto Però noi andremo a analizzarla più nel dettaglio Eccola qui Siege Allora iscrivetevi in massa e in cambio potenzeremo Corvo Ragazzi questa è una cosa bella Allora vi faccio vedere un pochino più avanti Eccolo qua Questo sarà un piccolo spoiler Potenzieranno Corvo Per me che è l'unico Brawler leggendario che ho E soprattutto ce l'ho all'8 Quindi manca poco per portare la 9 E quindi sbloccare la sua abita stellare È veramente perfetto Quindi non aspettavo altro Finalmente potenzieranno il nostro corvetto Corvettino Mentre sotto comunque continuiamo a vedere il piccolo nuovo Brawler Che adesso andremo a vedere Ok parliamo un po' del nuovo Brawler Eccolo qui Si chiamerà Carl Ed è questo ragazzi Il nostro piccolo cercatore di gemme Guardate quanto è bello Intanto lo styling Quindi comunque la fisionomia del nostro Brawler È veramente interessante Il suo caschetto Sembra fa parte della famiglia dei robot Facciamo caso un pochino come Bombardino e Stecca Come Ari sempre di quella famiglia Però guardate quanto è bello ho detto Ha quel picconcino in mano E porta il carrello Diciamo da minatore Sotto le sue braccia Quindi praticamente è seduto sopra questo carrello E lo guida Questo è veramente interesting Andiamo avanti Allora Ed è un geologo armato di piccone Che lavora nella miniera di gemme Infatti come abbiamo detto Allora Il suo attacco consiste nel lanciare il piccone come un boomerang Questa è una nuova modalità O comunque perlomeno un nuovo concept Che hanno inserito con questo Brawler L'attacco boomerang Che mi pare che fino adesso non c'era Guardate bene Lancia il suo piccone E torna indietro Quindi fa doppiamente il danno Mentre la super Aspettate eccola qui Mentre con la super Effettua dei vortici Testa coda E questo è veramente buono Anche se Parliamone un pochino Nel senso Ora Lui farà questo testa coda Ve lo faccio vedere un attimino Vai Guardate Quanto è interessante Quindi questa Mossa Questo testa coda Danneggia Gli avversari vicini Però Riflettiamoci un attimo ragazzi Riflettiamoci Ma Questo testa coda Ci rende invulnerabili Oppure no Gli avversari Possono comunque Danneggiarci Mentre stiamo facendo l'ulti Oppure no Sarà come Beryl Che Con l'abilità speciale Quando fa l'ultimate Diventa quasi invincibile Per lo meno Ha quella sua barriera O Non avrà mai questa abilità Ragazzi lo vedremo Penso successivamente Ma chissà Io faccio tutte queste concessure Ovviamente Fatemi sapere nei commenti Cosa ne pensate So che come me Non vedete l'ora Di sbloccare Carl E quindi Quindi tenetevi pronti Perché arriverà A metà marzo Ragazzi ormai Stiamo arrivando a metà marzo E arriverà Un nuovo brawler Hanno rilasciato A metà febbraio Eugenio E adesso A distanza Di circa un mese Rilasceranno Un nuovo brawler Ragazzi Se Supercell fa così O perlomeno Dà sempre aggiornamenti E sempre brawler nuovi Anche non per forza A distanza di un mese Ragazzi Perché comunque Non è che Molti brawler Equivalgono a giocabilità Ok Perché per esempio Uno di questi giochi Simili È League of Legends Ma League of Legends Non fa uscire sempre Champions Ogni mese Ok Quindi ci sta Basta che li fanno uscire Ma li fanno uscire In modo qualitativo Quindi di qualità Con nuove meccaniche Come stiamo vedendo Infatti con Carl Ok Festeggiremo il terzo anniversario Del lancio di Clash Royale Interesting Con che cosa? Con una nuova skin Di Mortis Quindi Mortis Che purtroppo ancora Io non ho Avrà una nuova skin Mortis Strega notturna Cioè Ragazzi Mortis Strega notturna Guardate la sua faccia Intanto Guardate la faccia di lui E guardate la faccia Di Mortis Strega notturna Ragazzi Allora Non mi voglio sbilanciare A me sembra un trans Poi Ragazzi Senza offesa per nessuno Ma è bruttissima La faccia di Mortis Così eh Veramente troppo brutta Fatemi se bene commenti Cosa ne pensate Io Non lo so Anche se avessi Mortis Non la comprerai mai Anche se costasse 50 gemme Troppo strana Poi Vabbè Se costassi 50 gemme Magari ci farei un pensierino Ma onestamente Penso che coserà Almeno 108 150 gemme Ne sono sicuro Perché comunque È associato All'anniversario Di Clash Royale Quindi Tra le che ce la daranno gratis Come è stato per Mago Bombardino Chissà Ma Non penso proprio Ma che bucchia è questo Ma Aspetta 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 Una nuova modalità Chiamata Assedio Infatti Siege Allora Questa La dobbiamo vedere Nel dettaglio Ci saranno Casseforti Torrette Robot Ok Allora Sarà un po' simile Già alla modalità Che abbiamo Con la cassaforte Che dovemmo andare A distruggere Però la nostra cassaforte Avrà uno styling Un po' diverso Guardate bene Questo proprio al centro Sarà una sottospecie Di torretta Che appena noi Ci avvicineremo Praticamente Sparerà Dei dardi contro di noi Quindi comunque Si difenderà Dai nemici E lo stesso Ovviamente farà Quell'avversario Appena noi Entreremo Nella base avversaria Avremo conto La loro torretta Che poi in realtà È una cassaforte Ok Ci sarà Ok abbiamo visto Bene Ci sarà il Robot gigante Il doppio di premi Il doppio di xb E il doppio Dei trofei Dovrete difendere La cassaforte Con la vostra torretta Quindi praticamente Questa qua Ok E al centro Della mappa Troverete Delle casse Ora Qua effettivamente Non si vedono Casse Però se ci fate caso Guardate vicino a lui Ok Sotto di me Dove c'è quella Parte Subiccio Quella parte Col cerchietto Blu A sembrare un po' Lo slurp Delle modalità speciali Di sopravvivenza Guardate Spunta Ok Si vede Perfetto Si vede Proprio Accanto a me Si vede Quel bullone Ok Quindi lui dice Trovete delle casse Contenente dei bulloni Che serviranno E ora Continerò ovviamente La frase Però Se ci fate caso Aspetta Vediamo se Possiamo togliere Un attimino Ok Ok Guardate sotto Là sotto Dove c'è la nostra Torretta Praticamente Jesse Quindi Ryan Ha lanciato Il bullone Verso Quella cassaforte Barra Torretta Ok Quindi praticamente Questi bulloni Serviranno proprio A potenziare O perlomeno Dopo vedremo A creare Un qualcosa Che ci servirà Per attaccare La base avversaria Vedete che Stanno mandando Praticamente Tutti i bulloni Nella nostra base Per costruire Un robot Alleato Praticamente Il mega robot Che troviamo Nelle modalità Classiche Contro i robot Quindi Quelle dove Ci dobbiamo difendere Eccolo qui Verrà riutilizzato Per distruggere La base avversaria Ovviamente Questo verrà anche Contro di noi Nel senso che Se i nemici Costruiranno Prima il robot Ce l'avremo contro Lo usarete per attaccare La cassaforte nemica E per distruggere Prima che i nemici Facciano lo stesso Con la vostra Guardate quanto è bello Vedete Il robot Che va a distruggere La cassaforte nemica Ora Non si capisce Se questa cassaforte Sia quella Con la torretta O meno Ma mi sa di sia Per ora è tutto Ok Ora non rifaremo Ragazzi Questo è quello Che vi avevo detto All'inizio Ci sarà un restyling Proprio di boh Speriamo bene Ok ragazzi Queste erano Tutte le novità Riguardanti Al nuovo Aggiornamento Di Brawl Stars Fatemi sapere Come sempre Nei commenti Cosa ne pensate Un bel like Di supporto Per supportare Effettivamente Questi video Che faccio Proprio sul momento Perché potevo fare Altro oppure direttamente Non farlo Ma ragazzi Volevo analizzarlo Insieme a voi Quindi fatemi sapere Cosa ne pensate Con un bel supportino Mi fate Tanto piacere E iscrivetevi al canale Se ancora non siete iscritti Soprattutto se non volete Una faccia Come questa Quindi ragazzi Mi raccomando Se non fate una faccia Come questa Iscrivetevi al canale Ci vediamo Alla prossima Ragazzi E con un saluto Vi saluto A tutti quanti voi E ci vediamo Alla prossima Live o video L'off Ciao 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 Ciao